xml encoding uguale utrf 8 giornate dimenticare per la conduttrice baradurso, protagonista ogni giorno con il suo appuntamento di p omeriggio 5 apostrofo punto carmelina est infatti protagonista di un link edibile gaffe, ripetuta più volted la puntata punto non stiamo parla comunque di un errore gravissimo posso aver leso l'immagine di qualcuno, anzi il tutto si è concluso o anche con qualche risata punto la prese e c'era intenta lanciare alc esclusivi di domenica li ved continuamente dato appuntament o i suoi telespettatori a domani punto m a domani è sabato 16 novembre e quind il pubblico ha iniziato a non comp andere punto in molti season o addirittur ha chiesti se fosse sopraggiunta acqua il che clamorosa novità nei palinses canale 5 invece è nulla di tutto continua dopo la foto alc un'eperso ne hanno pensato che la pun tata fosse registrata invece è sta da semplicemente una disattenzione e della d'urso punto la regia ha fatto inf atti diversi cenni alla conduttric e per avvisarla della gaffe e l'isile fermando sono le 18 e 18 secondi di venerdì siamo in dir e ta dunque solo uno scivolo nepp e continua dopo la foto app o dell'inatteso errore c l'età colto l'occasione per i servare belle parole nei confront i della collega silvia tofanin ch e va in onda proprio il sabato con ve il sabato lascio spazio mia collega bravissima silvi panin punto io il sabato non sono ino dai faccio le prove ma non essendo appunto in onda non lo calcolo ai iniziatò la conduttrice con tin va dopo la foto ma clamorosamente app o dopo ha ricommesso l'errore d o ma ni vedremo e ancora l'ho detto c o monque sonno le 18 a 0 1 e 16 secondi ha chiosato barbara d'urso ribade do ancora una volta di essere dunque e in diretta televisiva punto e l'appunt a mentò con domenica l'idecisa raya punto domenica 17 novembre punto neici corsi barbara è stata attacca simo giletti che la accusa di aver dato troppo spazio a tunicol umbo et in arrispoli chiera tonico l'umbo prima di andare in television e nel momento in cui gli dai spazio un po' inno renderti conto dell'ef un po' inno renderti conto dell'escrizione Grazie a tutti. Grazie a tutti.